Più di 100 carabinieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale Tenneo relativa a 17 indagati, 9 dei quali destinatari di misura cautelare accusati di rapina aggravata, sequestro di persona, fabbricazione, porto e compravendita di armi clandestine, falso materiale, cessione di stupefacenti e ricettazione. Dall'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, è emerso come gli indagati, oltre ad aver commesso tre cruente rapine a mano armata in esercizi commerciali di San Giovanni e La Punta, fabbricassero anche armi clandestine perfettamente funzionanti che venivano vendute a criminali del luogo per 1000 euro circa ciascuna. L'attività investigativa ha poi portato alla luce un articolato sistema criminoso in cui tossicodipendenti per pochi euro, qualche dose di sostanza stupefacente, muniti di documenti falsi, venivano convinti a farsi vaccinare più volte per procurare a soggetti Novax la certificazione Green Pass. Per una delle cavie è stata infatti accertata la somministrazione di tre dosi di vaccino in meno di un mese, a grave rischio per la propria salute.